In questo video leggiamo e spieghiamo il sesto canto dell'Inferno di Dante Alighieri. Buon ascolto. Al tornar della mente che si chiuse, dinanzi alla pietà di due cognati, che di tre stizia tutto mi confuse, novi tormenti e novi tormentati mi veggio intorno, come ch'io mi muova, ch'io mi volga e come ch'io guati. Quando ho ripresi conoscenza, quando ho ripresi coscienza dopo essere svenuto per la compassione, per la pena e per il dolore che avevo provato per la sorte di Paolo e Francesca, vidi intorno a me nuove pene, nuovi dannati, ovunque io mi girassi, da qualunque parte io guardassi. Io sono al terzo cerchio della piova, eterna, maladetta, fredda e greve, regola e qualità, mai non l'ennova. Dunque mi trovavo nel terzo cerchio, in quello dell'eterna pioggia, una pioggia maledetta, gelida, pesante, che non cambia mai né di intensità né di natura. Grandine grossa, acqua tinta e neve, per l'aere ternebroso si riversa, pute la terra che questo riceve. Una grandine spessa, nera, acqua nera e neve si riversano nell'aria oscura, e il terreno che accoglie queste precipitazioni puzza terribilmente. Cerbero, fiera crudele e diversa, con tre gole caninamente latra, sovra la gente che qui vi è sommersa. Qui incontriamo un altro demonio, un altro demonio custode dell'inferno, è il terribile Cerbero. È una belva spietata, orribile, ha tre teste di cane, con le quali abbaia, abbaia come un cane su quelle anime che sono sprofondate qui. Gli occhi ha vermigli, la barba unta e atra, e il ventre è largo, e unghiate le mani. Grafa gli spiriti e ti scoia e ti squarta. Cerbero ha gli occhi rossi, infuocati, la barba unta e nera, e una pancia enorme. Ha le unghie sulle dita delle zampe, e con queste unghie colpisce gli spiriti, li spella, li fa pezzi, li squarta. Urlarli fa la pioggia come cani, dell'un dei lati fanno l'altro schermo, volgonsi spesso i miseri profani. Dunque la pioggia li fa ululare come se fossero dei cani, e con un lato del corpo riparano l'altro lato, si girano e si rigirano in questa fanghiglia disgustosa, questi miserabili peccatori. Quando ci scorse Cerbero il gran vermo, le bocche aperse, mostròci le sanne, non avea membro che tenesse fermo. Quando Cerbero ci vide, quel grande verme, egli aprì le bocche e ci mostrò le sue zanne, era impressionante perché non teneva ferma nessuna parte del corpo, era tutto in movimento. E il duca mio distese le sue spanne, prese la terra e con piene le pugna le gittò dentro le bramose canne. Virgilio allora allungò le sue mani, raccolse la terra e con i pugni pieni di terra ve li gettò dentro, per le golle affamate. Qual è quel cane che abbaiando agogna e si racqueta, poiché il pasto morde, che solo a divorarlo intende e pugna? Cotai si fecer quelle facce lorde dello demonio Cerbero che introna l'anime, sì che esse vorrebbe esser sorde. Come quel cane che abbaiando chiede cibo e si calma, dopo che azzanna il pasto, perché aspettava solo questo e quindi si dedica solo al cibo, così si calmarono quei tremusi zozzi sporchi, i tremusi di Cerbero, del mostro infernale Cerbero che latra così forte che le anime lì raccolte vorrebbero essere sorde. Noi passavamo su per l'ombre che adona la greve pioggia e punavamo le piante sovra l'orvanità che par persona. Noi andavamo avanti, procedevamo camminando su quegli spiriti che erano sfiniti, prostrati dalla pesante pioggia infernale e calpestavamo le loro immagini evanescenti e le anime giacevano tutte per terra, ad eccezione di una che si tirò su e si mise a sedere appena ci vide passarle davanti. O tu che sei per questo inferno tratto, mi disse, riconoscimi se sai, tu fosti, prima che io disfatto, fatto. Quest'anima che si era tirata a sedere disse, o tu che sei condotto qui per questo inferno, riconoscimi se ci riesci, tu che sei nato, tu che sei stato fatto, prima che io fossi morto, prima che io fossi disfatto. Sentite che bello questo verso, tu fosti, prima che io disfatto, fatto. E io a lui, l'angoscia che tu hai, forse ti tira fuori della mia mente, sì che non par chi ti vedessi mai. E Dante lo guarda, ma non lo riconosce, non riconosce quest'ombra. E quindi dice, la sofferenza che provi, probabilmente rende il tuo viso diverso da come io me lo ricordo, tanto che mi sembra di non conoscerti, di non averti mai visto. Ma dimmi, chi tu sei che in sì dolente loco si è messo, e hai sì fatta pena, che s'altra è maggio, nulla è sì spiacente. Ma dimmi, dimmi tu chi sei, che sei stato messo in un luogo così doloroso, in cui sconti una pena davvero così spiacevole. Ed egli a me, la tua città, che è piena di invidia, sì che già trabocca il sacco, sai come tenne in la vita serena. E lui mi rispose, La tua città Firenze, che trabocca di invidia, beh Dante non perde occasione di inveire contro la sua città di Firenze, dalla quale era stato cacciato in esilio, era stato condannato ingiustamente a morte. E quindi qui mette in bocca a questo personaggio il suo pensiero contro Firenze. Dunque la tua Firenze mi ebbe con sé durante la vita terrena, quindi io sono fiorentino. Voi cittadini mi chiamaste Ciacco, per la dannosa colpa della gola, come tu vedi, alla pioggia mi fiacco. Voi di Firenze mi chiamavate Ciacco. Ciacco è un soprannome che ha due significati, o il diminutivo di Giacomo Jacopo, ma anche l'appellativo di porco maiale. Ciacco probabilmente era un uomo particolarmente ingordo, ed era famoso per questo proprio per la sua ingordigia. E anche Boccaccio lo cita in alcune delle sue novelle. Quindi Ciacco dichiara di essere finito in questo cerchio a causa della sua incessiva gola, della sua eccessiva ingordigia. E io, anima trista, non son sola, che tutte queste a simil pena stanno per simil colpa. E più non fe parola. Ciacco prosegue. Ed io, anima dannata, non sono qui da sola, perché, come puoi vedere, tutte queste altre anime che sono qui con me sono qui, in questa stessa pena, per la stessa colpa. E poi Tacco non disse più nulla. Io gli risposi. Ciacco, il tuo affanno mi pesa sì calagrimarmi in vita. Ma dimmi, se tu sai, a che verranno li cittadini della città partita? S'alcunva è giusto. E dimmi la cagione, perché la tanta di scorte è assalita. Ecco che quando Ciacco tace, Dante rincalza. Ciacco, la tua angoscia mi addolora, mi commuove. Rimane molto colpito da questa pena. Ma raccontami, prosegue. Se tu lo sai, raccontami il futuro dei cittadini di Firenze. Dimmi se c'è rimasto qualche uomo giusto. E spiegami la ragione per cui tanto odio ha colpito questa città, questa nostra città. E quelli a me. Dopo lunga tencione verranno al sangue. E la parte selvaggia caccerà l'altra con molta offensione. Poi, appresso convienche questa caggia infra tre soli e che l'altra sormonti con la forza di tal che testepiaccia. E Ciacco risponde. Dopo una lunga battaglia arriveranno al sangue e la fazione dei bianchi butterà fuori la fazione dei neri e li umilierà pesantemente. Ma la fazione dei bianchi, anche questa, è destinata a cadere nell'arco di tre anni. Così l'altra parte, cioè la fazione dei neri, avrà la meglio. Grazie al sostegno del Papa Bonifacio VIII, quel Papa responsabile dell'esilio di Dante. Alte terrà a lungo tempo le fronti, tenendo l'altra sotto gravi pesi, come che di ciò pianga e che naonti. A lungo, quindi, la fazione dei neri terrà il potere sulla città e assoggetterà l'altra fazione con gravi violenze, senza considerare i lamenti di questa fazione. Giusti sono due e non vi sono intesi. Superbia, invidia e avarizia sono le tre faville che hanno i cuori accesi. Continua a parlare Ciacco e dice A Firenze ci sono solo due cittadini giusti, ma non sono ascoltati. E tre sono le fiamme che ardono nel petto dei fiorentini e sono l'ambizione, la rivalità, la cupidigia, cioè la bramosia. Qui pose fine al lagrimabile suono ed io a lui Ancor vò che tu mi insegni e che di più parlarmi facci dono. Farinata, il teghiaio, che fursi degni, Jacopo Rusticucci, Arrigo e il Mosca e gli altri che a ben far puoser l'ingegni. Dimmi ove sono e fa che io li conosca, che grandisio mi stringe di sapere se il cielo li addolcia o lo inferno li attosca. A questo punto Ciacco smise di parlare ma Dante gli chiese ancora Vorrei che ancora tu mi parlassi e oltre a ciò che tu mi hai già detto Dimmi Farinata e il teghiaio che furono uomini così degni di rispetto Jacopo Rusticucci, Arrigo e il Mosca e gli altri che si impegnarono a fare il bene per la vita civile di Firenze Raccontami dove sono Dimmi qual è la loro sorte perché io ho un gran desiderio di sapere se il cielo li addolcisce o se l'inferno li sfinisce. Dante qui è curioso chiede informazioni su personaggi che erano stati famosi nella Firenze comunale Si tratta di personaggi che Dante ha conosciuto e delle cui sorti ovviamente è curioso E quelli? Ehi son tra l'anime più nere Diverse colpe giù li grava al fondo Se tanto scendi Lai potrai vedere Ciacco risponde Sì, essi però sono tra anime più colpevoli cioè si sono macchiati di colpe peggiori Per questo sono stati spinti giù in fondo Se scenderai ancora li potrai incontrare Ma quando tu sarai nel dolce mondo Priegoti calamente altrui mi rechi Più non ti dico e più non ti rispondo Ma, continua Ciacco, quando tu sarai di nuovo nel mondo dei vivi Ti prego di ricordarmi agli uomini E ora non ti dirò più nulla e non ti spiegherò più nulla Li dritti occhi torse allora in biechi Guardò mi un poco E poi chinò la testa Cadde con essa A par dell'altri ciechi A quel punto torse i suoi occhi Prima li teneva dritti Poi li torse da sotto in su Mi guardò un attimo Infine rovesciò il capo E cadde all'ingiù Con gli altri dannati E il duca disse a me Più non si desta di qua dal suon Dell'angelica tromba Quando verrà la nemica podesta Ciascun rivedrà la sua trista tomba Ripiglierà sua carne e sua figura Udrà quel che in eterno rimbomba Virgilio disse Non rimverrà più fino al suono della tromba eterna Della tromba angelica Quando arriverà il potere divino Che è il loro nemico Qui in quel momento al giudizio universale Ognuno rivedrà la sua triste tomba Riprenderà su di sé la sua carne E le sue sembianze E ascolterà la sua condanna per l'eternità È solo nel giorno del giudizio universale Che verrà proclamata La loro condanna eterna Si trapassammo per sozza mistura Dell'ombre e della pioggia a passi lenti Toccando un poco la vita futura Perch'io dissi Maestro Esti tormenti Cresceranno i dopo la gran sentenza O fier minori O saranno sicoccenti Così Dante e Virgilio Oltrepassano quel miscuglio disgustoso e sporco Di dannati e di fango Avanzando lentamente Parlando un po' della vita nell'aldilà E Dante chiede a Virgilio Maestro Questi loro tormenti Aumenteranno in seguito al giudizio universale Oppure diminuiranno O resteranno così come li abbiamo visti Ed egli a me Ritorna a tua scienza Che vuol Quanto la cosa è più perfetta Più senta il bene E così la doglienza Virgilio risponde Pensa A quello che dice Aristotele Ricordati del suo insegnamento Secondo il pensiero di Aristotele Infatti Quanto più una cosa è perfetta Tanto più si percepisce tutto Sia il bene Che il male Tutto che questa gente maledetta In vera perfezione Già mai non vada Di là Più che di qua Essere aspetta Dunque Nonostante questi dannati Non procedano verso la perfezione Essi non vorrebbero comunque Rimanere in questa condizione di imperfezione In cui la loro condanna Non è stata perfettamente stabilita Noi agiriamo a tondo quella strada Parlando più assai Chi non ridico Venimo al punto Dove si digrada Qui vi trovammo Pluto Il gran nemico Noi quindi percorremo a tondo Quel tragitto Quel cerchio Parlando molto di più Di quanto io non riferisco qui a voi E arrivamo nel luogo In cui si scende al cerchio sottostante E qui Incontrammo Pluto Un altro custode infernale Il gran nemico Grazie per l'ascolta Arrivederci al prossimo video E se vi è piaciuto Cliccate like E iscrivetevi al canale Grazie Grazie a tutti